Con Alex Montanaro del collettivo Magma, uno dei curatori della quinta inizione della rassegna itinerante Elementi dal 2 giugno al 14 agosto 2024, ben trovato. Ciao, grazie per essere con voi. Cos'è Magma? Magma è una sottostione che attualmente ci colloca nel terzo settore e opera principalmente sui territori dell'arte contemporanea, performativa, musicale e digiva. È attiva dal 2014, siamo diverse persone che si occupano della ricerca, della produzione e dell'attivazione di formati che operano principalmente sul territorio romagnolo, sia all'interno di enti museali ma soprattutto all'interno anche di situazioni simboliche e naturalistiche che sono patrimonio del nostro territorio. Noi tendiamo a crearle attraverso una nuova abitabilità che è quella che tendiamo a occupare attraverso i prodotti e i linguaggi che pensiamo possano nascere in dei momenti effimeri adatti per far conoscere al pubblico i nuovi linguaggi dell'arte contemporanea. All'interno di questo progetto come nasce la rassegna Elementi? Elementi nasce durante la fase pandemica dall'incontro con un artista, curatore e mio caro amico che si chiama Enrico Malandesta all'epoca all'interno di una situazione di nome Mu. In quella fase in cui il mondo dell'arte, soprattutto performativo e musicale, non aveva più una casa perché i teatri e le aree dedicate al pubblico spettacolo non erano agibili, abbiamo pensato di attivare elementi come possibilità principale per poter riattivare un settore ma anche come forma di nuova possibilità sul territorio per poter occupare quei luoghi dalla forte caratteristica naturalistica che sono un patrimonio sicuramente inestimabile dei nostri territori. Inoculando all'interno linguaggi contemporanei che potevano essere non collegati a un genere prestabilito ma un grido tra musica e performance. Com'è strutturata questa edizione? È strutturata in 6 eventi, si partirà il 2 giugno all'interno della salina dove si esibiranno due artisti Spencer Clark e Levin Martens al tramonto. Il 23 giugno saremo sempre all'interno della salina ma l'evento sarà contraddistinto dal fatto che ci sarà la possibilità di raggiungere il luogo attraverso un'escursione in kayak che porterà la gente nell'area del concerto e permetterà alla gente di fruire di quello che la natura ci potrà offrire e sicuramente anche della performance degli Earth of Make, cioè una composizione. È un gruppo composto da 5 persone. Il 7 di luglio, sempre a Cervia, ci sarà un format nuovo per elementi che sarà collocato all'interno della pineta. Abbiamo mappato un'area della pineta creando un percorso, tre aree dove ci esibiranno in acustico tre artisti che abbiamo coinvolto. Il 20 e il 21 luglio ci sarà invece l'evento a Faenza, precisamente a Villa Imaldi e questo sarà uno degli eventi più estesi a livello temporale perché si parterà dal 20 di luglio con un laboratorio in collaborazione col Museo Carlo Zauli, un laboratorio di ceramica sonora. Era proposto e curato da Viole Imaldi e organizzato da Fabiano Sportelli, un ceramista artigiano noto per la costruzione di cischietti, bocarine e comunque oggetti legati alla ceramica sonora. La giornata avrà diverse incursioni in termini di proposte musicali e performative, tra le quali quelle di Claudio Moncori, Letto Uomo Uccello, Jacopo Buono, un artista di trato e Beltran Goguet che produrrà in acustico un live ad hoc per uno degli spazi di Viole Imaldi. Il ragazzo invece di Armonica, un collettivo nomadico che comunque tende ad attivarsi principalmente in Lombardia e Milano, si occuperà della respe sonora per tutta la giornata fino alla notte dove abbiamo deciso di organizzare uno sleeping concert di 17 ore aperto al pubblico all'interno del quale si esibiranno diversi artisti, Equum, Erob e Manticora che è un duo formato da Carolina Martinez e Giovanni Vanni. Al risveglio ci sarà la possibilità di continuare a rilassarsi e poter concludere chi si è prenotato il workshop di ceramica perché saranno cocchi di strumenti che il giorno prima sono stati prodotti. Il penultimo evento è all'interno invece di uno dei luoghi iconici della rassegna, sarà il 4 agosto all'interno dell'AIA della Salina di Serbia, luogo diventato iconografico soprattutto per la scenografia di mucchi di sale che contraddistingue sicuramente in termini estetici la salina. E lì si esibirà Cucina Povera, il progetto solista della musicista lussemborghese finlandese Maria Rossi, lì sarà un concerto al tramonto, si spera di avere ancora la possibilità di poter avere i mucchi di sale, cosa che lo scorso anno non ci sono stati a causa della tremenda alluvione. L'ultimo evento invece sarà a Lugo, all'interno dell'aeroporto Francesco Baracca, nel quale si esibiranno Arus, che è un duo creato da Anton Anskaska, che è una produttrice a lettera acustica, in collaborazione con Anna Silivostic, caratterizzato dall'Aise dalla rivocazione della lingua bielorussa, una lingua che sta scomparendo. Al tramonto ci sarà invece un intervento installativo performativo John Chandler, artista attualmente basato a Berlino, sarà un'installazione legata ai nuovi formati d'ascolto, verranno fatti fluttuare all'interno di un hangar dei microsintetizzatori autoprodotti dall'artista, l'installazione si chiamerà NOSSA CERVEI. Tutta la giornata sarà accompagnata da una veste sonora, contraddistinta da qualche intervento live, ma prevalentemente di t-shirt e sessioni d'ascolto, di undicesima casa, un collettivo di Bologna. Questo è l'era segna di quest'anno. Quindi c'è i eventi, sono tutti eventi gratuiti, contraddistinti dal microformato, perché a parte l'evento di Faenza Ville Malvi del 20 e 21 luglio e l'evento del 14 agosto a Lugo. Gli altri sono eventi entro le 200 persone, su prenotazione, i primi due eventi sono già sold out, l'evento del 2 giugno e del 23 luglio. Per le prenotazioni si può scrivere anche per le informazioni alla mail riservare.gmail.com Com'è stata la scelta artistica e anche dei luoghi? Noi partiamo sempre dalla scelta dei luoghi, nel senso che gli artisti sono una conseguenza di uno scouting territoriale in termini principalmente di luoghi. La scelta dei luoghi parte principalmente da un immaginario, cioè quello di poter comunque portare persone all'interno di luoghi usuali. La ricerca all'interno del territorio romagnolo offre sempre grandi sorprese, sia Serbia che è uno dei paesi più esplorati, che la bassa Romagna ha sempre offerto tanti luoghi anche a noi del territorio nuovi. La parte invece curatoriale è legata all'aspetto artistico, è una condivisione che arriva da un dialogo di diverse persone che sono all'interno della situazione, con l'obiettivo di non volersi legare a un genere per stabilire, nel senso che le incursioni e le produzioni che sono state e collocate all'interno della rassegna possono toccare un genere folk come un genere eltronico, un genere legato anche alla musica concreta, molti possono essere anche interventi acustici sempre con l'obiettivo di rispettare principalmente l'ambiente. Essendo la rassegna nata all'interno proprio di questo obiettivo curatoriale, ovvero sfruttare dei luoghi inusuali per creare delle nuove abitabilità, in più delle volte la proposta tende a essere una proposta legata all'ascolto, alla riflessione e all'ambasciamento delle energie. Il pubblico di conseguenza è molto trasversale, ci troviamo di fronte a molte richieste di famiglie, come a molte richieste di addestri al settore, giovani, adulti. Adesso siamo dei grandi valori anche delle rassegna in termini di inclusività, non avendo un genere e avendo la possibilità di poter sfruttare dei luoghi veramente affascinanti e inusuali. La formula che si crea tra contenuto e contenitore è sempre valore aggiunto e ci permette di non scendere a compromessi per quello che è il prodotto, nel senso che non scegliamo mai o quasi mai in una logica commerciale. C'è una possibilità per noi per arrivare ai grandi numeri, cosa che magari se dovessimo ragionarla in termini di produzioni commerciali saremmo per forza costretti a fare. Quindi difendiamo il piccolo formato delle rassegne attraverso questo sistema di costruzione che di conseguenza è un piccolo formato, ma che ci permette di essere sicuramente autentici e crediamo nell'autenticità. Quinta edizione della rassegna itinerante Elementi dal 2 giugno al 14 agosto 2024. Un saluto. Grazie mille a voi, spero di incontrarvi in Romagna. A presto, grazie.